Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con un altro quiz dopo tipo più di un anno La scorsa volta abbiamo fatto 93 views facilmente Quindi provo a farne anche oggi Siamo di nuovo con un quiz su indurare le squadre tramite i club dei giocatori No, scusate la nazionalità, vabbè Quindi un po' più diverso Oggi siamo tra l'altro qui anche con Antic Quindi niente, adesso possiamo iniziare Ah, aspetta, aspetta Chi vince, prossima volta che ci incontriamo Darà 20 schiaffi in faccia all'altro Va bene 20? Sì, allora Vabbè questo ormai lo sappiamo, l'abbiamo visto mille volte È il Belgio Sì, l'abbiamo già visto Eh, l'abbiamo visto mille volte Stavamo regolando l'audio, eccetera Ah, comunque noi metteremo pausa È il primo che indovina prende il punto Sì, va bene Eh, io ho capito come si chiamava Non mi ricordo Mi sono dimenticato la nazionalità Ma quello lì non è son Ma questo qui non è son Chi è della... No Io lo so, ma non mi ricordo È tipo, ti dico, è tipo dei Balcani Ma non mi ricordo È in Europa Come c'è che si chiamava Serbia Non è Serbia Sì, è Serbia Io ho capito Perché c'è un giocatore No, no, l'ho capito io È Croazia È Croazia Sì No, aspetta Ah no, sì Sì È Croazia Perché c'è Brozovic È C'è Modric e Brozovic E io sto Io E dall'altra parte c'è Peres Io l'ho capito grazie al Madrid E... Eh, ma io l'ho capito grazie alla Nassar Ma non mi ricordavo il nome No, io invece la Nassar non mi veniva in mente Adesso sì Vabbè, 1-0 Ma magari è venuto noi Aspetta, vuoi cacchio le conti punti sul telefono Vabbè, voi in video ovviamente lo vedrete tipo a destra Il punteggio Io invece devo segnalarlo adesso Eh... Cagliari Cagliari dalla destra Uruguay Eh... Nub Uruguay Sì, sì Ma se c'è il Liverpool davanti Secondo me Secondo... Basile Ok No, non è Brasile Sbagliato Aspetta, è difficile Eh... Eh... Potrebbe essere... Eh, sì, Uruguay No, Uruguay Io l'ho capito Io non l'ho capito Ucraina Eh, vabbè, era facile questo, non è giusto Eh, devi riferirci prima Vabbè, arrivo il primo... Il secondo dopo Eh, no, devi riferirci subito Qui, secondo dopo Vabbè, tre punti a zero Prozzo Dopo ti ricoprerò Eh... Ah... Eh... Portogallo Ah, è vero, vero Portogallo 3-1 Ah... Ok L'ho capito già da subito Eh, oddio Olanda Olanda No, non è Olanda È... È Giappone Eh, no La nazionalità di Gimenez Ah... Eh, no No, Gimenez L'attaccante del Feyenoord Ah, quella che era Eh... Era... Gimenez Beh, non lo conosci, mi sa È tipo uno degli attaccanti più forti quest'anno No, io lo so Perché tipo C'è un gioco Cioè, ci giocavo a FIFA E lo usavo Ma non mi ricordo che nazionalità Era Guarda che non sto parlando di difensore Eh, sto parlando dell'attaccante È nuovo questo È l'attaccante del Feyenoord Eh, ok Allora ce l'hai Eh, però che nazionalità Eh, però che nazionalità Ah, Messico Messico No, mi sa che è azzeccato Eh, mi sa che è Messico No, scusa Centrocampista del Gimenez È centrocampista del Liverpool messicano No, è sbagliato Non c'è nessun centrocampista del Liverpool messicano Allora non c'è Io ti dico Sparo Paesi Bassi Vediamo Abbiamo iniziato il timer Vediamo Avevo detto io prima Tu cos'è che hai detto? Eh, ho detto Orlando Prima Allora io dico Messico Non lo so Era il Gia... Ueda Che cacchio? Avevo capito Giappone per Mitoma? No, no, no Allora, allora Qui ci sta Giappone Io ho detto Giappone prima Eh, lo so Però Eh, vabbè Non vale perché non è confermato Però Però Perché l'avevo detto Poi ho detto Orlando Però Allora, qui Giappone ci sta Però Oh, Tomiyasu Difessore centrale E chi è Fai Nord Giapponese Non l'avrei mai azzeccato Se non fosse Cioè Solo per Mitoma Aspetta Voglio vedere Ueda Ma chi conosce Ueda? Non l'ho mai sentito Ma infatti Ueda Tomiyasu Difessore centrale L'hanno messo L'altra l'altro Lui è terzion destro Non è difessore centrale Sì ma può anche farlo Difessore Aspetta Aspetta Mi si è buttato Eh, è argentino È argentino Visione schermo Si è bloccato Per un attimo Non l'ho potuto vedere Ok Facciamo finta Che non è punto Per nessuno Vabbè Dai punto No 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 perché sto Stavincendo Quindi Quattro Questa è Secondo me Marocco Marocco Arabia Marocco Sì Marocco Perché Bonu C'è Cacchio Esatto Io la credo Marocco Dai ma io ci arrivo dopo Sì esatto Tu ci arrivi Giusto dopo Cioè io ci arrivo Ma Ok vabbè Siamo 5 a 1 E Italia Ah questa è Italia Sì bravi Dirlo subito Dai ma dai Non ci credo Vabbè dai Schippiamo 6 a 1 No 5 a 1 No 5 a 1 Un punto Non l'ho contato Questa è Enegal Ah si è vero Stavolge sono arrivato io Due secondi dopo Porca Mi è caduto il telefono Sulla tastiera Il portiere della Del coso Mendice Eh sì Anch'io ci stavo pensando Ok Vi vediamo Aspira Questo Inghilterra Adesso Questo che cos'è Ah Inghilterra Vabbè Indovirato te Sei Passiamo al prossimo Sei a 2 Sei a 2 Ok Sei a 2 Francia Eh Oddio Ma no Vabbè Vabbè Devi verci prima Francia Ma perché io guardo da sopra Dai questa volta Guarda da basso Eh sì Devi fare Il portiere più facile Io Sembra questa tattica Eh Eh sì Vabbè Oh Beh No No Ah So che Eh Non so il nome Non so il nome Ecuador Terebbe essere Ecuador Proviamo Proviamo intanto te Non lo sai E Kisedo Quello lì Estupinian E Kisedo No sono Estupinian E Kisedo Quello lì a sinistra Vediamo Sì Eh No non ci credo Perché vedi Kisedo Quello lì del Chelsea Quello lì del Chelsea Di 115 milioni Estupinian Del Brighton Per questi due Sì Poi che sta facendo Mal la stagione Ah Questo è Tedesco Eh Sì Eh Gervati Sì 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 Hai vinto Qui 8-3 Picchio Spagna Spagna Eh Troppo tardi No boh Dai Aspetta Difessore della nostra Ah la porta Non sapevo che era Eh Eh Corea Non so perché Quell'attaccante Sonne Eh Ah sì 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 è Corea Ma che Cioè Come fa un portiere coreano A giocare in arabe Saluto Io non l'ho mai sentito È Corea perché c'è anche Kim È Corea perché c'è anche Kim È Lu Young qui Sì difensore Qui Lu Young Kim Son Liu Wang Ecco sì Ecco sì Mica Kim 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 Svizzera Trova ad essere Ah No aspetta Ah sì Portiere Eh sì Trova ad essere Svizzera Ah boh via Sto facendo Stradito Sì Ah sì Ederson Ederson È più veloce Oh Antic Brazil Dai Dai mi concentro Questo è Come cacchio Olanda 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 È troppo un hub Dai 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 Ho detto anche Olanda Visto che è così Destro Non è lui È Polonia No Polonia No Se non ci sarebbe Le Mangosche Ma alla destra Gnabili è tedesco Eh Poi Non so Per dire Savissimo Sane tedesco Musiale tedesco Ma poi Se ci vedi È anche un bel po' tedesca È molto tedesca Eh Austria Austria Ah No Ehm Ehm Cosa Questo è che era l'Austria Eh Sì è vero È l'Austria Ah Vedi Ma aspetta Perché questo è Alaba Non c'è No no Vabbè Ok inizio il timer Però continuano a pensarci Io Ah È tipo Cina Non mi ricordo Cina No niente Austria C'è ragionata Ok Eh Questa è Eh Lavo Eh USA Ah è vero Eh non ci sei arrivato in tempo Ehm Eh Eh Qual è però Serbia Ah ok Eh non Mi sconfondo io tra Serbia Slovacchia Eccetera Ah ma è Serbia Eh sì Io so Serbia Sium Sium Aspetta 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 Ehm Che si chiama Ehm No non è quello Escozia Esco As Ma io mi sa che ho sbagliato Contare punti Comunque Cioè sto vincendo io Però sbagliato Tipo un punto Cioè vabbè Vabbè tipo Sono a 5 Io sono a 5 No tu sei a 7 Io sono tipo 12 o 13 Sette Finchia Vabbè E' quello Scozia Sì Ah Scozia Eh Ah Eh Eh Norvegia Eh No Eh È Norvegia Svizzera No Non è Norvegia Non è sincera Tra Haaland E Odegaard E Odegaard Eh sì Io Io da qui due Che capisco sempre Norvegia Beh Vai vai 14 a 7 Nel senso Ho il tuo doppio Eh Direi che Ho vinto io Sì Tutti quelli che Indevinate te Io li sapevo Tranne uno Quello lì L'Austria Perché non ci stava arrivando Questo No L'Austria L'Austria L'ho visto da Baos Eh Io Io non ci stavo arrivando Ah è vero L'Aimer Ecco chi è quello Del Bayern È L'Aimer Ecco chi era Ah io ho capito Da Sabiz No No È vero però No Sabiz È vero Sabiz Perché Ah perché adesso è vero Il Dortmund Non è più il Bayern È giusto Eh Eh io non ce l'avevo Prima giocava Il Munich Vabbè Antic Per questa volta che Vengo 20 scappi in faccia Mi raccomando